forza ragazzi è l'ultimo atto vogliamo la serie B domenica non sarete soli noi siamo con voi ragazzi è l'ultimo atto ricordatevi che non siete soli noi siamo con voi allora ragazzi noi non vi diciamo niente lo sapete già quello che vogliamo non vogliamo la serie D quindi domenica ce la dovete mettere tutta e non vogliamo nessuno che si tiri indietro noi vogliamo la maglia su alta fino al novantesimo la partita è nostra non c'è nessun altro altro c'è praticamente noi come cominciamo dobbiamo essere già in serie D andiamo a mangiare proprio c'è come il leone ragazzi vi abbiamo cucinato per un anno intero vi abbiamo supportato vi abbiamo aiutato ora fateci questo regalo un sogno da tutta la da tutta Castrovilla ragazzi noi ci siamo stati per un anno intero anche se in casa siamo stati fuori purtroppo per vari motivi ma abbiamo comunque sempre sostenuto sia in casa che fuori casa adesso l'importante è solo l'unica cosa l'importante è vincere domenica tutto il resto per noi conta poco siamo sicuri che insieme non ce la faremo conquistiamo questa serie D noi siamo sempre qua a con la mia città e canterò per te dai forse di la strada ricordatevi che non siete stati solo tutto l'anno e non lo sarete neanche domenica sapete cosa vogliamo? ragazzi! ragazzi da lupetti al lupi domenica bisogna vincere forza Castro! domenica un solo risultato uno fisso forza Castro! copete ancora sei più forte sì più forte sì più più che lo sanno la ricerca è libera come una città